Allora, eccomi qua, vi faccio vedere un po' una carellata di quello che ho preso, c'è anche roba per i gatti, iniziamo subito da i gatti, ne ho preso una nuova vaschetta per la ghiaia, ho trovato questa qui forma triangolare e vediamo se funziona in teoria, non dovrebbe far uscire i loro escrementi, in teoria, vedremo poi la pratica, poi vi farò sapere. Andiamo a capire come funziona, ecco, grazie a Giada con lo studio abbiamo capito che andava girata e agganciata così è più grande, vedete, così è più alta e non ne escono le sporcizie. Poi per i bambini, per la scuola, gli ho preso queste vorraccette, questa giurra è per Gabriele, che praticamente spingendo così esce fuori la cannuccia e poi rispingendo va giù la cannuccia. E invece per le bambine, per Sabrina e Giada l'ho presa così rosa. adesso le daviamo, Giada se l'è già lavata, la sua l'ho già provata, perché non poteva aspettare, poi ho preso per me questi fermagli classificati colorati per sistemare, pinzare assieme i vari fogli quando mi servono. Queste tre bustine per dividerle magari per i coupon per quando vado a magari le missioni per metterceli dentro e dividerli per il supermercato. Poi, per quanto riguarda le mutande, qui ci sono quelle di Giada e qui quelle di Sabrina. Gli piacevano, hanno preso la stessa fantasia. Giada ha preso 5-7 culotte così, invece Sabrina abbiamo preso due misure, 11-12 e 8-10. Diciamo anche 8-10 le sono giuste giuste, quindi mi sa che presto passeranno a Giada. Invece a Giada 5-7 vanno abbastanza bene, ma lei è esilina, piccolina, quindi le vanno bene per forza. Poi ho preso questi fermagli, questi legacci in plastica con anima di filo di acciaio, costavano 1 euro l'uno e questi qua anche, più lunghi, perché vi farò poi vedere, ho preso l'ombreggiante e lo dobbiamo agganciare fuori nel cortile per i cani. Dopo ve lo faccio vedere. Poi qui ci sono le mutande che ho preso per Giorgia, ho preso vari colori, anche così, fatte tipo con i cuoricini oppure con la scritta del giorno, così, vabbè, un po' carine. Queste qua mi piacciono, un po' sforescenti. E poi queste qua invece sono per me, ho dovuto prendere un XXL, ho preso 4 paia di mutande, due top fatti così, uno blu e uno nero, tipo sportivi, perché con Pia che si attacca ancora alla tetta comunque li devo cambiare spesso. Poi abbiamo preso un altro di questo accendifuoco, perché abbiamo ancora della carbonella, così faremo ancora una volta al barbecue. E poi lo spazzolino per Pia, perché così iniziamo a lavarle bene bene i dentini. Poi ho preso, per quanto riguarda invece i concorsi, queste cartelline così, che così hanno la maniglia e quando, tipo, devo andare magari in posta a spedire, oppure devo andare a fare le fotocopie, cioè magari mi servono le fotocopie e tutto, comunque ce le metto qui dentro. Anche magari se vado in missione per tenermi dietro il foglio con i vari regolamenti, sono utili, insomma. Comunque poi nel video di nuovo del risparmio vi spiegherò bene bene l'utilizzo che ne andrò a fare. Poi qui ho preso un nuovo, una nuova asta, qui, la docetta con sari e scendi, perché quella che avevamo oggi si è rotto questo pezzo qui, e quindi ho detto, va bene, prendo una nuova, così se Mauri ne ha voglia, oggi più facile domani la monta. Poi, come vi dicevo l'altro giorno, per quanto riguarda l'acqua, per smetterla di prendere le bottiglie di plastica, perché veramente non lo facciamo andare tanto ed è uno spreco, abbiamo preso questi portabottiglia, e poi queste bottiglie così un po' disegnate, abbiamo preso questa con i cerchi, questa rosa con le righe, arancione con le righe, poi adesso vi faccio vedere, aspettate, questa con i cuoricini blu, questa con le righe gialle, poi una trasparente con le righe, poi qua invece ce n'è una rosa con le righe, un'arancione liscia, qua ci sono biciclette, palazzi, lì righe bianche, lì una verde, questa qui con mucche, persone, cowboy, così, e poi un'altra trasparente, una verde scuro e una blu, e adesso vi faccio vedere l'ombreggiante, e poi basta, poi abbiamo finito, ecco, questo qua è l'ombreggiante, vedete, che potrebbe anche andare, andare messo sopra, così per fare ombra, noi invece lo mettiamo di lato, come messo qua, comunque quando poi sarà finito, tutto è tutto pulito, vi faccio vedere, perché così hanno la cuccia, gli mettiamo l'acqua e tutto, i cani possono stare fuori, quando di notte, adesso che comunque fa caldo, stanno patendo un sacco, poverini, e quindi niente, e qua, questo qua, l'abbiamo pagato 9 euro, mi sembra, ed è 2 per 5 metri, questo è tutto, già fate vedere, io, fatemi sapere cosa ne pensate, le mutandine sono molto carine, guardate, ne abbiamo presentanti colori, bianche, grigie, azzurre, rosa scuro, blu, con i disegnini viola, e stavano a 1 euro e 90, mentre invece, quelle mie, a 1 euro e 20, anche quelle di Georgia, il top invece, 4 euro e 90 all'uno, comunque, spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se, anche voi, andate a prendere l'acqua, dalle casette, oppure se, comprate ancora, l'acqua in bottiglia di plastica, e, io vi saluto, vi ricordo di, iscrivervi al canale, se vi fa piacere, e noi ci vediamo, al prossimo video, ciao! Ciao! 1, 2, 3, come on! Come on! Come on! Ha!